ciao ciao dal vostro ferdi come vedete qui vi voglio illustrare tutti i pezzi che compongono questo kit che già vi ho fatto vedere in un altro mio video e come vedete qui davanti a me qui ci sono tutti i componenti i vari componenti che formano pian piano poi il motore completo che vi avevo già mostrato questi pezzi sono realizzati con una stampante 3d il tempo corrente sono state circa 65 ore vedete qui il basamento centrale con i due pezzi centrali sono stati scomposti i pezzi perché sennò era impossibile realizzare con la con la nostra stampante tutti insieme i pezzi quindi sono stati divisi sono stati divisi in modo da poterli realizzare e poi io alla fine l'ho incollati tutto con della colla poliretana vedete qui c'è un carter sinistro questo è il cilindro fatto in due metà con lo scarico e con il foro di aspirazione questi sono i coprivalvole poi tutto questo qui che vedete in questo momento andrà andrà perniciato nel colore che preferite questi sono i due assi del della leva delle marce della leva d'avviamento questa è la targhetta identificativa del motore EFI ora vediamo ecco qua vedete si congiunce le due parti poi sopra ci va il cilindro sempre due pezzi poi i due laterali due cartellate ecco bagliato ecco qui giriamo bene modo che combaci tutto ecco composto ora mancano solo i due coprivalvola ed è il motore è tutto finito poi c'è un tappetto dell'olio e poi un beccuccio dello sfiato dell'olio ecco qui questo pezzo va messo in questa parte qui dopo a questo invito il materiale usato e tpu è una plastica molto dura la consistenza è più o meno come quella di un legno legno duro vedete questa è la valvola dello scarico e questo qui che vedete che vi faccio vedere ora è il mio primo motore che abbiamo realizzato ed è stato già tutto assemblato va bene questo è tutto io vi ringrazio ora metterò pure le istruzioni del montaggio dopo questo mio video vedrete tutte le istruzioni di come vanno montati i vari pezzi vedete io che i coprivalvola l'ho fatti di colore cromato come gli altri pezzi mentre l'altro l'ho verniciato tutto in nero va bene io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento ai miei prossimi video ciao 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 ciao